Sabato 1 maggio 2021, sono esattamente le 22.04, siamo qui alla Palla di Pomodoro, in Piazzale della Libertà. Alle nostre spalle sta iniziando la manifestazione contro il coprifuoco istituito dal governo. C'è un abbondante schieramento di polizia, come vedete anche dalle immagini che stiamo riprendendo, e la gente si sta piano piano radunando per dimostrare il proprio sentimento nei confronti di questi provvedimenti che, secondo la loro opinione, sono del tutto anticostituzionali. Siamo qui perché dalle 10 in poi il virus dicono che è in giro e noi vogliamo capire se è veramente in giro. No, sostanzialmente pensiamo che è ora di far capire che è tutta questa paura, tutto questo modo di bloccare l'economia, anche se il virus c'è, è ora di bloccarla questa cosa qua, perché gli italiani hanno bisogno di ritornare alla normalità, questo è. Non sono in rappresentanza di nessuno, ognuno di noi è in rappresentanza di se stesso, per quelli che sono i diritti di ciascuno di noi, al contrario di chi non sta capendo di qual è la sua reale libertà e quali siano esattamente gli ambiti in cui può muoversi. Si sta arrivando a un eccesso di imposizione, quindi forse anche quello che è stato l'intervento dalla polizia con benotto camionette, semplicemente, e non sappiamo anche quanti altri carabinieri, a verificare che cosa si volesse dire o fare, ci è parso un attimino sproporzionato. A questo, quello che non sono riuscito a comprendere, è come a fronte di ciascuna sanzione amministrativa elevata di cui dovrà essere verificata poi al comando l'emissione o meno in capo al singolo, è la non intenzione del singolo rappresentante delle forze dell'ordine a identificarsi. Io ho chiesto, siamo in tanti, potrei adesso fra dieci minuti essere bloccato da un altro poliziotto che nuovamente mi chiede il documento. Posso dire che ho parlato con la gente? Non le interessa. Ok, ma perché? Perché tanto comunque sono in divisa. Ah, ok, allora il numero di matricola? Lei non deve saperlo. Ma perché? C'è una legge, se non sbaglio, del 94, che dice che loro devono essere obbligati, loro per primi a dire, salve, sono la gente, il maresciallo, il pinco palla, rossi, cortesemente favorisca il documento. Questa è la loro. Allora, se anche da parte loro manca l'esatta dimensione di quali siano i loro doveri, si fa fatica a noi a dimostrare quali siano i nostri diritti, perché si sbilancia tutto. Allora, è un disastro. Ed è quello al quale ci stanno portando, oltretutto dividendoci, perché sentire madri che dicono io torno a casa e mia figlia mi dice per colpa vostra continua a girare il virus, che andate a fare queste cose, è tristissimo. Si sta sbilanciando tutto. Dalla guerra ci sono stati dei partigiani che sono stati il 2, il 3% della popolazione come forse saremo qui stasera. Però alla fine non ha cambiato l'Italia. Ha cominciato a far capire alla gente, con il loro comportamento, che c'era la verità dietro. E alla fine siamo risorti. Usciamo in piazza, tutti. È un appello che faccio a tutti. Io sono Penso Finisauro. Venite, che l'articolo 13 è di libertà. L'articolo 21 potete protestare se le cose non vi va bene. Non c'è nessuna legge. Stasera a me mi hanno preso i documenti. Può darsi che mi arriverà una multa. Non lo so. Ma pago tranquillamente una multa se devo prendere la mia libertà. La mia libertà. Quando il governo ha chiuso tutto ho pensato però è una scelta coraggiosa, non ci sono ancora tanti casi. Coraggiosa. Quando è iniziata a non pensare ai bambini, ai disabili, a chi subiva violenze domestiche, io ho detto ma ci penserà due giorni, si può stare senza pensare a intere categorie. No, due mesi. Lì l'80% dell'autorevolezza morale l'ha persa. Poi una serie di altri errori. Mi sono chiesta chi sta pagando per questa gestione del Covid. Chi ha pagato? Ve lo dico. I bambini di tutta l'età, gli adolescenti, i giovani adulti, i studenti, la famiglia, la cultura, la coesione sociale, l'imprenditoria, posti di lavoro, famiglie con reddito basso, persone con altre malattie non Covid, disabili, persone con malattie mentali, famiglie con violenza domestica, la libertà di cura, la medicina integrata. Allora, due milioni di screening in meno per i tumori, che sono la seconda causa di morte in Italia, 180 mila all'anno. Due milioni di screening in meno, 6 mila casi in più. Quindi avremo più morti di tumori. Reparti di cardiologia convertiti a Covid, la prima causa di morte in Italia. Cioè, queste sono stragi annunciate. Con questa gestione del Covid, quando anche vincessimo, sarebbe la vittoria di Pirro. Ma stiamo perdendo, ci stiamo indebitando. Abbiamo sacrificato i più deboli della società. Abbiamo fatto guadagnare Amazon i supergiganti di Wind, Amazon, l'e-commerce, il fronte di connessioni, i corrieri, la mafia. La mafia sta vincendo con questo. Big Pharma, i produttori di PC. Ci hanno guadagnati i grandi, ci stiamo perdendo i piccoli. Se vincessimo la battaglia col Covid avremmo perso comunque. Ma la stiamo perdendo. 101.000 morti in più. Ma un governo così è un governo di incapaci.